Il Palavolcano come continua la situazione? Il Palavolcano è una storia infinita, noi come Giste lo abbiamo più volte ribadito, siamo pronti, abbiamo vinto la gara e stiamo aspettando queste benedette carte che arrivano sia dall'agenzia delle entrate sia da parte della prefettura. Una volta avute queste carte il tutto penso che si possa concretizzare, ma prima noi dovremmo vedere con il nostro geometra anche tutti i lavori svolti e tutti i lavori fatti che mancavano alcune cose da fare. L'amministrazione dice che sono state fatte, speriamo che sia così perché siamo pronti ad aprirlo e siamo pronti a partire perché questo impianto non può rimanere chiuso perché si continuerà a rovinare, essendo che c'è umidità e chiuso l'impianto non può stare più così. Ci auguriamo veramente che l'amministrazione si faccia carico di scendere alla prefettura, di andare all'agenzia delle entrate immediatamente e trovare queste benedette carte anche perché i 30 giorni stanno per passare, una volta che passano i 30 giorni loro possono darlo già in gestione automaticamente. Speriamo perché le società sportive della Cireale, come vedi il basket, la Cireale Calcio a 5 e la Palla a Volo, hanno già iniziato i loro campionati e stanno già giocando fuori casa. Mi sembra una cosa assurda tutto questo con un palazzetto già pronto e con tanti soldi spesi all'interno.